troppe notti stavo chiuso fuori molli prendo a calcio sti portoni sguardo in alto tipo scalatori quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma sono fuori di testa ma diverso da loro e tu sei fuori di testa ma diverso da loro bentornati amici qua nel salotto delle pipe di man style cose da uomini stasera puntata interessante penso che abbiate già capito dalla sigla che qualcosa sta cambiando che siamo movimentati oggi sono particolarmente ispirato quindi che dire banda le ciance mettetevi comodi sedetevi sulla tazza e lasciate che tutto scorra come deve scorrere allora iniziamo a parlare con come da titolo di due iniziative che ho voglia di proporvi una interessa direttamente il mio canale l'altra è un'iniziativa più ad ampio raggio partiamo da questa poi mi aspetto che ovviamente nei commenti di sentire cosa voi ne pensate sono qua a proporvi delle idee per mettere al vostro vaglio le cose che ho pensato e allora quella da ampio raggio sarebbe che mi piacerebbe che finita tutta questa situazione catastrofica che c'è in giro quando si tornerà liberi di girare si potrà uscire di nuovo mi piacerebbe che noi io con i miei colleghi che facciamo video su youtube della zona diciamo qua della zona nord ovest nord est dell'italia riuscissimo a trovarci in un punto a fare una piccola manifestazione aperta chiaramente mica solo a noi che facciamo video ma a chi ci segue per dar modo di poterci trovare confrontarci magari non so ognuno di noi porta i suoi tabacchi che non fumo che vuole scambiare le sue pipe magari l'amico bob porta i suoi quadri i suoi porta pipa le pipe che ho restaurato e quindi fare anche una specie di mercatino tra di noi a seconda chiaramente di quanto successo potrà richiedere e quanta gente vorrà partecipare si sceglierà poi la location più adatta magari ci basterà un bel agriturismo un po spazioso per farci una bella mangiata e dopo all'aperto farci una bella fumata ecco chiaramente io dei nomi in ovviamente ce li ho perché tipo a me farebbe piacere poter incontrare finalmente alfonso che è qua di crema se non ho capito male bob che deve essere di monza moreno che è del lago di como cioè qua a modena c'è rufinelli con le sue pipe cioè abbiamo della gente interessante secondo me qua vicino che possiamo trovarci e poi se c'è qualcuno che magari è disposto a viaggiare che viene da più lontano mi perdoni chi non ho citato perché ovviamente non seguo tutti non conosco tutti e quindi questa è un'iniziativa che mi piacerebbe proporre ora non so se è un'iniziativa originale nel senso che magari l'ha già proposta qualcun altro sul suo canale che non conosco o che non ho visto e quindi mi scuso se ho interferito con questa iniziativa in tal senso comunque a me piacerebbe partecipare a un'iniziativa di questo genere per aver modo di conoscere gli altri miei colleghi che mi sono simpatici e chi di voi ha voglia di condividere e di comunicare con noi vediamo come evolverà la situazione poi sicuramente se già sul mio canale trovo un piccolo riscontro dopo cercherò di contattare gli altri di vedere se vedono di buon occhio questa mia questa mia idea ecco la seconda idea riguarda già di più il mio canale anche se poi comunque è aperta anche agli altri miei colleghi se vogliono partecipare allora a me obiettivamente forse non so chi guarda di più i miei video che mi conosce un po di più forse avrà capito che sono una persona di a cui piace molto parlare interagire e youtube in questo senso mi viene un po stretto cioè all'inizio mi piaceva adesso mi viene già un po stretto perché comunque sono solo io che mi spongo sono solo io che parlo con voi dico le mie idee e tutto però dall'altra parte non ho la possibilità di avere un riscontro vostro al di là dei commenti che però trovo molto limitanti perché comunque quando si commenta sullo scritto non si riesce a capire il tono con cui vengono dette certe cose sia da voi che da me magari qualcuno poi le interpreta male le interpreto male anch'io anche se da parte mia assolutamente la cosa non è possibile poi vi spiego il perché e quindi mi viene un po stretto avevo pensato alla storia delle live no però dico la live alla fine cosa cambia cioè sono sempre io che parlo a voi poi va bene ho dei commenti magari in diretta e vi rispondo ai commenti in diretta c'è un minimo di interazione in più ma non è quello che mi soddisfa e quindi cosa ho pensato ho pensato di uscire dal mondo sferico di youtube di allargarci di entrare nell'universo e quindi visto la grossa diffusione che hanno avuto tante piattaforme per via della didattica a distanza al tele lavoro eccetera pensavo che sarebbe carino secondo me una volta al mese per dire per non per non farvi sprecare troppo tempo delle vostre vite trovarci magari una mezz'oretta 40 minuti chi lo desidera fare in una stanza di videoconferenza utilizzando una piattaforma comune fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo tipo zoom o google meet che sono i più rinomati e che permettono gratuitamente senza dover creare chissà che profili senza dover dare numeri di telefono eccetera di poter interagire così cosa succederebbe che saremmo finalmente in videoconferenza io parlerei a voi voi parlereste a me ci sarebbe un'interazione finalmente quasi umana ora fatemi semplicemente sapere se secondo voi può essere una cosa per voi interessante o meno quindi non solo conoscere meglio me ma conoscervi anche meglio tra di voi avere la possibilità di interagire anche tra di voi e di comunicare e di parlare di quello che ci appassiona magari non solo le pipe magari si può parlare anche di calcio di orologi perché ho visto che tanti amici che a cui piacciono le pipe comunque sono anche appassionati di orologi e gli unici due argomenti che vieterei sono la politica per ovvi motivi e il parlare di questa situazione che ancora permane nel in questo momento perché vorrei una cosa leggera frivola divertente positiva per divertirci per non pensare per uscire da questo come si dice per uscire da questo torpore generale ecco quindi comunicatemi parliamone tramite i commenti se vi piace cerchiamo un giorno cerchiamo un orario che vada bene a tutti possibilmente magari la sera vi dico non una cosa apocalittica è mezz'ora 40 minuti una volta al mese poi se si vorrà farlo un po più spesso perché la cosa è piacevole eccetera siamo aperti a tutte le soluzioni siete voi che comandate in questo caso non io io cerco solo di mettere a disposizione il mio canale per darvi modo di formare una comunità come vedete esco voglio uscire da youtube andiamo su una formazione dove non non ci sono cose speculative io non ci guadagno niente nessuno ci guadagna niente lo facciamo semplicemente per il piacere di farlo questo perché a me farebbe piacere io ho iniziato a fare video su youtube proprio perché avevo visto una cosa molto bella cioè pensavo che il mondo della pipa fosse proprio questo condivisione che ci fossero tanti amici perché vedevo comunque degli youtube che parlavano tra di loro poi ovviamente quando ci sono entrato dentro mi sono reso conto che il mondo della pipa non è tanto amichevole se vogliamo essere onesti anzi c'erano tante critiche qualcuno che delle volte esce anche dal seminario come è successo anche in un commento di un mio video che tra l'altro Paolo che è uno che aveva già commentato un altro mio video proprio oggi si è alterato perché ha visto che in un mio vecchio video un ragazzo aveva offeso pesantemente usando un aggettivo non consono degli youtuber che io avevo consigliato perché a me piaceva allora partendo dal presupposto che comunque ognuno è libero di fare quello che vuole e non mi stancherò mai di ripeterlo ma non lo voglio ripetere tutti i video perché per chi mi segue davvero diventa una cosa noiosa per chi guarda solo un video mi sono accorto che se non lo dico tutte le volte magari vengo frainteso vero Giuseppe Giuseppe che mi ha detto che il mio messaggio di partire che non si può partire con la Ferrari ma bisogna partire da una 500x magari non era un messaggio non mi ha detto che era un messaggio sbagliato secondo lui però me l'ha fatto capire perché secondo lui ognuno è libero di fare ciò che vuole allora Giuseppe per me sempre ognuno è libero di fare ciò che vuole viviamo in un paese che grazie a Dio è libero viva l'Italia, tabacco e paese e mi sembra anche inutile doverlo ripetere perché è chiaro che ognuno fa quello che vuole però obiettivamente se io mi sento di voler dare un consiglio non posso dire semplicemente fumate quello che volete perché che consiglio è? sarebbe un consiglio comodo da parte mia perché non mi espongo non esprimo un parere e quindi non aiuto nessuno cioè perché comunque che uno può partire a fumare la pipa usando qualsiasi tabacco è sottinteso cioè fai quello che vuoi poi se io devo dare dal basso della mia esperienza e di quello che ho vissuto io un consiglio mi sento di darlo che può essere condivisibile o non condivisibile ci mancherebbe infatti te non lo condividi e mi fa piacere che l'abbia voluto sottolineare avrei avuto più piacere se tu ci avessi raccontato brevemente nel messaggio la tua prima esperienza col fumolento che tabacco avevi usato e secondo te che tabacco era giusto utilizzare per un neofita ma per dare un consiglio per creare un'esperienza a chi ne ha bisogno perché se io fumo devo fumare il mio primo tabacco e non conosco nessuno che fuma è chiaro che vado a vedere dei video e cerco di farmi una idea e poi parto con quello ora io credo che non mi si possa imputare che sia completamente sbagliato dire io non partirei da un tabacco da 30 euro perché magari per buono che sia non lo riesco ad apprezzare e per buono che sia potrebbe comunque essere un tabacco che non è nelle mie corde ora è chiaro che c'è chi può non condividere questa mia idea ben venga però che poi mi si dica che l'esempio a Ferrari che ho fatto è sbagliato perché sarebbe come dire che se vado a donne allora non posso non mi permetterei di andare con una bella donna ma andrei con una brutta perché la sintesi del mio messaggio era quello no è un paragone che non regge perché perché se io vado a donne si presume che io sappia cosa mi piace se mi piace alta se mi piace magra se mi piace col bel culo con i capelli biondi rossa cioè no quindi io vado e scelgo con chi interagire poiché lei voglia interagire con me è tutto un altro discorso invece quando io devo fumare il mio primo tabacco e dentro dal tabacchino guardo cioè io non so cosa mi piace perché non ho mai fumato il tabacco da pipa quindi non so cosa mi piace non me lo immagino neanche quindi secondo me è meglio partire per gradi poi ognuno fa quello che vuole se il padre è ricco e ha la Ferrari vuole che suo figlio parla con la Ferrari lo può fare se voi avete la possibilità economica di partire con dei tabacchi importanti rischiando che non vi piacciano o che non li capiate che dopo li dovete accantonare se potete permettervi di comprarvi una Daniel come prima pipa è giusto che lo facciate nessuno dice il contrario ma siccome io mi ritengo un proletario e siccome penso che la maggior parte della gente che guarda i miei video sia un proletario come me o un medio borghese quello che è cioè mi sento di consigliare un approccio più cauto ma è un mio consiglio poi lo potete seguire o non lo potete seguire ci mancherebbe se lo seguite secondo me io per logica ma non parlo per la logica della pipa parlo anche per l'esperienza di vita se noi partissimo sempre al top sul top cazzo ma una volta che hai fatto il top dopo cosa ti rimane nella vita hai fatto già tutto forse forse dicono magari partire da un livello un po' più umano e cercare di godersi le cose pian piano di crescere lentamente forse un minimo di soddisfazione in più te la può dare o perlomeno quando arrivi al top magari lo apprezzi di più e apprezzi di più anche le esperienze precedenti anche se non erano il top ma questa è la mia singola opinione che può valere per alcuni per altri no però volevo specificarla perché magari non ero stato chiaro anche perché se uno mi viene a dire è come dire che allora non puoi fumare le Marlboro come per i sigaretta e fumi le MS è un altro paragone che non ci sta secondo me perché? perché tra le Marlboro e le MS passeranno ora non sono aggiornato sui prezzi di sigarette ma cosa passeranno? 2-3 euro? cioè è differente da dire prenditi una latta da 30 euro o prenditi un tabacco in busta da 9 secondo me il buon Aldo Mancusi mi ricordo che lui ad esempio era uno che sosteneva prendetevi un tabacco buono da 25-30 euro perché così quando iniziate se trovate delle difficoltà avendo speso dei soldi vi impegnerete di più e non smetterete subito di fumare la pipa allora è una teoria che ci sta ha un senso logico la mia teoria invece qual è? che se io prendo un tabacco da ho fatto l'esempio dell'Italia ma non l'ho consigliato perché costa 5 euro e 3 l'ho consigliato perché secondo me è un buon tabacco attenzione però stando su dei tabacchi normali da 8-9 euro in busta se tu lo prendi lo fumi e non ti piace la sensazione che ti dà non ti dico che va bene ho speso poco smetto di fumare la pipa oppure lascio perdere no magari invece puoi dire beh vabbè forse questo tabacco qua per me non va bene ne compro un altro sempre di quella cifra lì però cambiando tipologia di tabacco e vediamo che emozioni mi regala se lo riesco a fumare meglio se non va bene quello lì magari faccio un altro esperimento ancora quindi magari al posto di di una latta ho comprato 3 buste al posto di aver provato un tabacco ne ho provati 3 sì ovviamente di qualità inferiore ma parliamoci chiaro quando non sai fumare e non sai riconoscere i sapori gli aromi eccetera e fai fatica a non far scaldare la pipa non farla spegnere così cioè obiettivamente sì magari capirò che il tabacco da 30 euro è più buono di quello da 9 magari me ne renderò conto però magari non mi regala lo stesso delle emozioni quindi la mia teoria è il contrario di quella di Aldo Mancusi che stimo tantissimo e vi prego non iniziate ad offendere nei commenti per questa situazione qua io sono libero di fare quello che voglio quindi se non vi va bene che io stimo una persona come Aldo Mancusi che come tutti ha dei difetti e ha dei pregi come ce li ho io come ce li ha Alfonso come ce li ha Bob tutti come ce li ha Moreno tutti abbiamo pregi e difetti se non vi va bene seguirci non ci seguite se vi fa piacere seguirci ci seguite cioè ognuno è libero di fare quello che vuole non è che vi abbiamo chiuso dentro la stanza con noi a fare video ecco quindi stasera sono un po' polimico mi fa piacere infervorare però Giuseppe non ce l'ho con te ti ho preso come spunto per far capire cosa vorrei dai commenti cioè a me fa piacere che voi commentate che non siate d'accordo con me perché questo alimenta una discussione ma discussione in senso buono cioè come la farei con i miei amici al bar non so se vi è mai capitato di essere al bar con gli amici e iniziate magari a parlare di calcio vi animate un po' discutete animatamente magari partecipa anche uno che non conoscete perché vi sente e vuol dire la sua e si fa aggregazione ci si dice anche delle parole e dietro poi alla fine si beve una birra tutti gli amici come prima e hai conosciuto una persona nuova che si è intromessa ecco questo vorrei io dal salotto delle pipe però mi rendo conto che quando ho aperto il canale pensavo che fosse questo potesse essere questo poi ho fatto un canale non solo sulle pipe no? e perché? perché non mi ritenevo all'altezza come non mi ci ritenga all'altezza adesso? non sapevo se avrei avuto da dire non sapevo cosa avrei dovuto dire e quindi ho detto proviamo a fare un canale un po' più ampio parliamo delle cose che piacciono agli uomini no? cioè io mi sarei trovato molto più a mio agio probabilmente a parlare di cocktail di miscelazione perché l'ho fatto per anni però forse era anche troppo semplice quindi volevo un'avventura diversa un'avventura un po' più complicata che mi mettesse un po' di pepe e quindi sono qua a parlare di pipe di orologi che mi piacciono di altre cose che mi piacciono il canale vive di luce propria è gestito con le mie finanze dirette nessuno mi aiuta non ho sponsorizzazioni di nessun genere compro le cose che mi piacciono e ve le porto a far vedere perché secondo me ne vale la pena dopo a ognuno possono piacere non piacere le pipe che presento i tabacchi gli orologi che vi ho consigliato degli occhiali o che vi ho consigliato dei bracciali cioè vi può piacere o non piacere io porto la mia esperienza e il mio gusto chiaramente però per essere chiari e sinceri io dalla diamosi caravaggio che ne parlo spesso nei miei video non ho ricevuto 50 centesimi non mi è stata regalata nessuna pipa ho comprato tutto con i miei soldi l'unica cosa che ho chiesto a Beppe della diamosi è stato quello Beppe mi fai un video sulle tue tre pipe perché ho difficoltà a far partire questa rubrica e secondo me un tuo video potrebbe aiutarmi inoltre potrebbe essere anche una cosa simpatica per creare empatia fra te e il tuo marchio con gli amici del canale ora sono ancora qua che lo aspetto mi ha detto che ve lo farà e vi ha mandato nel frattempo un saluto questo è quello che ho avuto dalla diamosi caravaggio e allora perché ce ne parli ve ne parlo perché le sue pipe mi piacciono perché sono mesi che continuo a cercare delle pipe da portare sul canale da poter di cui poter parlare per staccare dalla diamosi per darvi anche delle alternative perché mi sembrerebbe giusto e non le trovo cioè sinceramente ho trovato comunque delle pipe che per poco che costino andiamo intorno ai 40 euro abbiamo le classiche savinelli grezze le pipe da cesto del tabacchino che sono sempre comunque delle savinelli o delle brebbi o altri marchi e su ebay giù di lì ho trovato delle molina che voglio provare e proverò però non sono prezzi costanti sono magari fondi di magazzino che il tabacchino ne ha una e la svende e ve la vende magari a 35 38 euro questo è quello che ho trovato ho trovato floppy pipe che vende delle pipe col suo marchio che però non so chi gliele produce e altre realtà non lo trovate sto ancora cercando anzi se qualcuno di voi ha conoscenza di marchi più economici che abbiano un buon rapporto qualità prezzo gentilmente fatecelo sapere nei commenti che ve le provo e vi dirò la mia perché voglio interagire al massimo con voi e portarvi le esperienze positive da poter fare con delle pipe perché tutti sono capaci a dirvi che le savinelli fumano bene che le pitta sono di qua le daniel di là però in soldoni se vogliamo stringere e vogliamo creare una comunità un po' più proletaria e non troppo borghese facciamo fatica allora e andiamo avanti ringrazio tutti quelli che mi mandano i messaggi e Giuseppe non c'era bisogno di dire che non volevi fare polemica perché perché io sono un buono non so se ve ne siete accorti ma io mi definisco un buono che non vuol dire stupido mi definisco un buono perché perché non ci vedo mai la malafede della gente in quello che mi dice e voi non vedete nelle mie risposte io è chiaro che rispondo a tono a quello che uno mi dice ma in maniera molto tranquilla e serena cioè la mia vita non è qua dentro per fortuna adesso magari sì perché non possiamo uscire ma c'ho anche il terrazzo però cioè non vivo per youtube cioè è tanto è vero che a me di monetizzare sinceramente non me ne frega neanche una mazza ve lo dico fuori dai denti perché ho il mio lavoro e sto sono contento così non ne ho bisogno di monetizzare con youtube anzi probabilmente fiscalmente sarebbe anche una grana questo perché ve lo sottolineo perché c'è stato qualcuno che mi ha scritto in direct su instagram ovviamente con un profilo fake dicendomi ah bella idea quella del salato delle pipe ma che la mia risposta ma grazie mille cioè anzi se vuoi partecipare con un video ben accetto cioè e poi è andata avanti e ha detto no no ma è stata una furbata perché così tu fai fare i video agli altri non ti devi neanche sbattere e magari poi un domani monetizzi anche e ha detto no guarda probabilmente hai frainteso quello che io voglio dal canale però nel frattempo era già sparito mi aveva già bloccato eccetera eccetera va bene non c'è problema però ve lo voglio raccontare questa esperienza qua perché sono sicuro che qualche malpensante tra di voi ci sarà e infatti ero preparato a sta cosa qua perché vi ripeto sono un buono ma non sono stupido ero preparato a sta cosa qua me l'aspettavo che avvenisse prima e che avvenisse nei commenti con un po' di coraggio ciò non è successo prendo colgo questa palla al balzo allora se io ho usato Simpati Ford e Devil dei Rolling Stones al di là della poesia della simpatia per il diavolo che in questo caso tutti credono che il diavolo sia il tabacco ma questo è un discorso che affrontiamo ancora più avanti serata intensa e utilizzando un brano coperto da diritti d'autore per chi non lo sapesse sapete cosa succede che se io un domani monetezzo i soldi se gli becca il caro Mick Jagger e sono felice di darglieli perché lo stimo perché l'ho sempre seguito fin da bambino perché mi ha regalato emozioni e quindi piuttosto che prenderli io glieli do a lui e oltre a lui prendono altre 15-16 società discografici che ci sono dietro basta che fate la freccettina descrizione in fondo c'è scritto quindi è stato fatto apposta l'ho pensato ancora prima l'ho pensato prima proprio perché se ci fosse stato mal pensate gli dicevo non è così a me di monetizzare non mi interessa avevo iniziato sinceramente quei primi video con l'affiliazione di Amazon però obiettivamente sono onesto per quanto ho pubblicizzato dei prodotti comprati da me e che mi piacessero e ho creato dei link interessanti tipo il coltello con cui apro sempre le buste che mi piace un casino però mi sentivo sporco con me stesso mi sentivo di fare una cosa che non andava bene e quindi ho escluso anche sto opportunità qua l'unica cosa che mi ha portato il canale è stato ve lo dico fuori dai denti che ho conosciuto una bella persona con la quale mi sono trovato bene per una futura collaborazione che è Ivan Basile però non collaboreremo per Youtube cioè Youtube non c'entra niente con la mia vita collaboreremo al di fuori dei social collaboreremo nella vita reale e questa è stata una cosa una sorpresa piacevole l'unica cosa che ha portato al canale è stato un codice sconto del 20 prodotto per dei prodotti che se vi ho portato è perché quando l'ho comprato prima ancora di diventarci amico e di interagire con lui ho giudicato dei prodotti buoni e ve li farò rivedere tutti in un altro video ma semplicemente perché sono prodotti buoni che mi fa piacere pubblicizzare come tutte le cose buone di qualità che trovo perché penso che se avete dei soldi e li potete spendere bene è meglio perché è la mia filosofia di vita perché io di origine sono genovese sono tirato quindi di me da quel punto di vista lì potete fidarvi poi se le cose non incontro ai vostri gusti è un altro discorso detto ciò andiamo avanti il mondo del fumolento il mondo del fumolento mi ha stupito negativamente mi aspettavo molto di più dal mondo del fumolento mi aspettavo molta più interazione molta più condivisione mi aspettavo che fosse una piazza che fosse un salotto un club dove veramente la gente si potesse ritrovare per scambiare opinioni così poi ragazzi magari sono io che non vi sono arrivato e però così a dare un occhio anche agli altri canali non vedo tutti questi commenti perché quando uno ha 300 commenti su 5000 visualizzazioni secondo me c'è qualcosa che tocca vuol dire che la partecipazione è restia allora ragazzi io voglio dire si chiama fumolento non si chiama fumomorto siete vivi siamo vivi viviamoci la nostra passione ok il fumo fa male il fumo uccide va benissimo non dobbiamo fumare se potete dovete smettere di fumare ok però non possiamo neanche ripetercelo da ogni video cioè è una cosa risaputa da tutti se siamo qua a parlare di fumo lento non facciamo gli ipocriti siamo qua perché a noi fumare piace e se a me fumare piace non vi posso dire smettete di fumare se io non ho le palle per primo per smettere di fumare non posso pretendere che ce le avate voi al mio posto no quindi io sinceramente l'ho detto perché era giusto che lo dicessi ma una volta che l'ho detto una volta non lo dico più poi ognuno è libero di fare ciò che vuole ognuno può dirlo scriverlo 150 mila volte però ora non ho qua una busta di tabacco con me c'è già scritto sulla busta di tabacco quando entrate dal tabacchino e dite oh scuola mi daresti una busta dell'anfora giallo avete mai visto un tabacchino che vi guarda e vi dice beh ma sei sicuro lo sai quello che stai facendo lo sai che il fumo uccide ma lo sai che ti può venire il tumore alla gola non vuoi smettere davvero a me pesa vendertela non vorrei mai farlo mi siete mai chiesti ma il monopolio con che coscienza ce lo vende se il fumo fa male e il fumo uccide ragazzi ce l'hanno scritto semplicemente per non pagare dei danni per levarsi da dei problemi e secondo me è la stessa cosa che uno che ripete sempre il fumo fa male uccide vuol fare perché se fumi sei poco credibile secondo me poi ci sarà anche il coscienzioso che davvero lo pensa è tanto di cappello e tanto di rispetto però obiettivamente c'è già scritto sulle buste io non sono qua a dirvi di fumare che fa bene io sono qua a dirvi ragazzi se fumate se purtroppo fumate cerchiamo di fumare in compagnia bene e almeno di divertirci per quello che possiamo finché possiamo ora questo era il mio personale pensiero su tutto ciò ma ricordatevi che non è fumo morto ma è fumo lento a questo punto vado avanti coi ringraziamenti e Paolo Dulli credo qualcosa del genere scusami se non mi ricordo il nome non mi riesco a ricordare tutti mi aveva fatto notare un errore sulla croce della pipa del gruppo di Alfonso che non era una croce maltese ma era una croce templare ed effettivamente io ho detto guarda io probabilmente ho dato per scontato che essendo comunque la croce maltese in sé una croce templare non ci fosse differenza nel chiamarla a un modo o all'altro e obiettivamente probabilmente ho sbagliato chiedo venia per questo obiettivamente non ho perso tempo più di tanto a informarmi perché non sto tenendo una lezione di storia ma sto parlando di pipe però è giusto per onestà intellettuale dire le cose giuste e non sbagliate e per questo ho chiesto ad Alfonso di di dirmi la sera effettivamente una croce templare piuttosto che è una croce ma a te lui mi ha riferito che è una croce templare che l'ha chiamata con un certo nome e io gli ho chiesto guarda se mi fai un video e mi spieghi la differenza visto che te sei lo splendido oratore sei una persona molto colta e di storia ne conosci parecchia e a me piace ascoltarti ti ascolterei per ore se mi fai un video e lui mi ha detto che lo farà quando presenterà la nuova pipa del suo gruppo che sicuramente comprerò quindi benvenga e quindi Paolo volevo dirti sta cosa qua all'amico Xort che ti invito la prossima volta che mi scrivi magari diemi ciao Daniele sono Pinco Pallo cioè il mio nome è questo così diventiamo un po' più umani non rimaniamo dei nick così mi aveva invece chiesto di provare a vedere se riuscivo a far fare ad Aglas Mortimer il video delle tre pipe allora io sono sincero siccome ad Aglas Mortimer piaceva anche a me prima di seguirlo per la pipa l'avevo iniziato a seguire per il discorso della barba e mi piace molto il suo modo di illustrare le cose di parlare di porsi verso la gente gli ho detto che con piacere l'avrei fatto e in questi giorni l'ho fatto ho contattato su Instagram d'Aglas e l'ho contattato tre o quattro giorni fa mi ha risposto solo oggi ma non per colpa sua semplicemente perché siccome non ci seguivamo a vicenda cioè io lo seguivo ma lui chiaramente non sapeva chi ero e non mi seguiva il sistema di filtrazione di Instagram gli aveva impedito di vedere il mio messaggio all'immediato l'ha visto col tempo e quando l'ha visto mi ha risposto è stato gentilissimo nel rispondermi molto disponibile simpatico alla mano mi ha detto che mi avrebbe anche iniziato a seguire questo mi fa onore e mi ha detto semplicemente che l'iniziativa gli pare molto carina e che non esclude che in un futuro faccia un video parlando delle sue terapie delle sue terapie preferite proprio perché trova questa iniziativa carina sottolineando che comunque lui ha smesso di fare video sul fumolento nonostante che non abbia smesso di fumare ora io so già che magari chi è arrivato fino a qua mi chiederà e dunque non gli hai chiesto il perché ha smesso di fare video di fumolento allora credetemi ero tentato e sono molto curioso però mi sembrava di violare l'intimità della persona perché io non posso sapere le motivazioni che l'hanno spinto possono essere frivole come possono essere delle motivazioni personali un po' più profonde però credo che proprio per il rispetto che bisogna avere uno dell'altro ci sono dei limiti che non bisogna superare e quindi secondo me il rispetto della sua privacy della sua intimità per me viene prima di tutto credo che se Douglas vorrà spiegare il perché non fa più video sul fumolento lo debba fare lui e non io sul mio canale ma lo debba fare lui sul suo canale se vorrà farlo quando vorrà farlo e questo perché mi reputo una persona corretta e di tutti gli sfoghi che ho avuto stasera credetemi non c'è niente di personale con nessuno non vi fate pippe mentali non mi riferivo a nessuno in particolare è stato un mio sfogo perché ce l'avevo qua da dire però non vorrei rompere rapporti con nessuno perché davvero non è mia intenzione ognuno fa quello che vuole dice quello che vuole tutto nella massima libertà ricordatevi che ognuno è libero di fare quello che vuole fino a quando non va nello spazio vitale di un'altra persona e quindi finché la sua libertà non va a limitare la libertà di un altro punto questo è quello che mi sento di dire inoltre io non sono nessuno per giudicare nessuno ok dico solo il mio parere e vi chiedo di rispettare il mio parere come io voglio rispettare il vostro quindi potete dire che non siete d'accordo nei commenti usando l'educazione massima come io cerco di essere educato anche se mi infervoro parlando cerco sempre di mantenere un po' di educazione e dopo vi risponderò in base a quello che mi direte però vi ricordo sono molto sereno non non ho problemi cioè non mi offendo non non mi metto a piangere se qualcuno mi scrive chissà che cosa avete capito cioè sono la persona più tranquilla del mondo ok l'unica cosa che vi chiedo è che se dovete avanzare le vostre opinioni fatelo in maniera tonda completa cioè oltre a di non fate i politici no che dicono quello che è sbagliato fare ma non dicono cosa sarebbe giusto fare per loro fate le persone semplici quindi dite guarda io non sono d'accordo con te per questo motivo e io la penso così per questo motivo dopo che non siamo d'accordo non è un problema perché te vivi lo stesso io vivo lo stesso ci divertiamo comunque bene quindi ormai siamo arrivati quasi alla fine direi che non ho più nulla da dire le due iniziative ve le ho dette subito così dopo eravate liberi di andarvene quello che penso del fumolento ve l'ho detto stringendo vorrei che ci fosse più partecipazione più interazione a me alle volte sembra che la gente non commenti per paura di essere giudicata magari non da me perché se mi avete capito capite che io sono l'ultimo che giudica però magari per paura di essere giudicati da un altro del mondo esterno diciamo ecco secondo me le opinioni sono tutte buone e tutte sbagliate l'unica opinione giusta è la vostra cioè voi avete un'idea e quella lì è quella giusta poi dopo si può sposare con le mie si può sposare con quelle di Moreno di Bobo di Alfonso possiamo essere tutti sposati o essere tutti discordi non è un problema se avete l'umanità di portare la vostra opinione non sbagliate mai secondo me quindi se vi fa piacere fare i video ma attenzione io ho notato che ad alcuni l'ho chiesto perché li vedevo più partecipi nei commenti hanno smesso di commentare sono spariti ragazzi non vi ho chiesto 50 euro di darmi di tasca vostra vi ho chiesto se vi andavo a fare un video non vi va magari ho insistito due volte invece che una va bene non vi andava non c'era bisogno di sparire mi dicevate educatamente wow guarda Daniel proprio non ho il tempo non ho la voglia non mi dite non ho la capacità perché quella è una scusa che uno non abbia tempo ci posso credere che uno non ne abbia voglia ci credo quindi io cerco quelle persone che hanno voglia di condividere è una cosa semplice mi metto a disposizione per aiutarvi a farlo se tecnologicamente non siete alla portata di tutti abbiamo avuto due video fantastici per partire perché Davide vi ha dimostrato che non bisogna avere una location della madonna il suo video magari non si vede neanche bene perché era per strada c'era un po' di buio così però è stato semplice vi ha portato le sue esperienze è stato diretto a me è piaciuto molto Mirko Mirko che dire di Mirko Mirko ha fatto il suo secondo video della vita non era un esperto di video editing eppure ha fatto un video semplice coinciso dignitoso dove ha portato le sue esperienze è un video che ha riscosso un sacco di visualizzazioni e apprezzamenti e io sono contento per Mirko non mi interessa quelle visualizzazioni lì non sono per me sono per Mirko e tutte le visualizzazioni dei video che farete voi sono per voi io sono semplicemente un presentatore del vostro video ma se avete notato non non cioè proprio non mi passa neanche per l'anticamera del cervello di giudicare quello che uno dice o o di andare a discutere ora se non vi interessa parlare delle vostre tre pipe preferite parlare di tabacco fatelo se volete semplicemente dire la vostra su una cosa che ho detto io con la quale anche non siete d'accordo se lo fate in maniera educata ve lo pubblico in maniera integrale poi è ovvio magari nel video dirò anche la mia ci mancherebbe però tutto in maniera educata siamo qua per condividere quindi davvero io sono diverso da loro cioè se voi siete abituati a un tipo di youtube io credo di essere diverso ma non perché voglio fare il fenomeno perché la mia visione di youtube probabilmente è diversa io credo che i social abbiano una potenza incredibile oltre che una grande influenza e il loro potenziale è enorme ma secondo me lo sfruttiamo all'1% si chiamano social perché dovrebbero aiutare la gente a socializzare mentre a me sembra che invece questi social allontanino la gente cioè la tengano ingabbiata dentro il social ma in realtà non c'è interazione c'è interazione col social ma non tra la gente non so se riesco ad essere chiaro io credo che i social ci stiano rendendo persone più sole mentre invece secondo me dovrebbero servire per renderci più amici io ringrazio tantissimo io sto interagendo con alcuni di voi ci sentiamo su instagram qualcuno tramite email qualcuno su telegram io diventerò il pippatore viaggiatore perché quando si riaprirà tutto sono già d'accordo che mi trovo a far fumate con uno giù in Puglia vero Marcello voglio andare a trovare Bob voglio andare a trovare Alfonso ieri ho conosciuto Simone di Brescia che viene spesso a Parma perché segue la sua squadra del Parma e quindi sicuramente io vado spesso sul lago di Seo quindi sicuramente ci troveremo a fare una fumata e gli farebbe piacere farlo questo devono essere i social aiutarci a socializzare a condividere non isolarci bene detto ciò ho finito vi saluto oggi non vi chiedo neanche un like perché penso che oggi mi pioveranno una marea di disapprovazioni me ne direte di tutti i colori per quello che ho detto probabilmente ma sono onesto non mi interessa perché ho il diritto di esprimere il mio pensiero e voi avete il diritto di esprimere il vostro quindi vi ringrazio Rametto è tornato dalle ferie e vi ringrazia e quello che vi lascia è sorridete e godetevi la vita avete una passione non sarà la passione più salutare del mondo se ci riuscite smettete se non ci riuscite fumate poco fumate bene godetevi la vita però mi raccomando se potete smettete alla prossima amici buonasera buonasera signore e signori fuori gli attori vi conviene toccarti i coglioni vi conviene stare zitti e buoni qui la gente è strana tipo spacciatori troppe notti stavo chiuso fuori molli prendo a calcio sti portoni sguardo in alto tipo scalatori quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma sono fuori di testa ma diverso da loro e tu sei fuori di testa ma diverso da loro siamo fuori di testa ma diversi da loro siamo fuori di testa ma diversi da loro